ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi mostro la posizione delle quattro monete verdi della settimana 8 la prima moneta si trova qui praticamente dove c'è il fiume tra borgo bislacco e l'autorità e parco pacifico qui al centro praticamente e dovete appendervi a diciamo la zipline per prenderla ora non la vedete perché purtroppo l'ho già presa mentre giocavo quindi non c'è però le restanti tre le vedrete quindi appendetevi qui e la moneta praticamente è al centro della zipline vediamo adesso dove trovare le restanti tre monete verdi la seconda moneta verde si trova vicino alla fattoria frenetica qui in prossimità del ponte dovete distruggere il cespuglio per prenderla quindi non potete sbagliarvi è vicino il ponte nei pressi della fattoria frenetica quindi atterrate qui distruggete il cespuglio e la moneta verde vostra ora non ricordo se questo l'altro è l'altro ovviamente perché io sbaglio sempre il primo tentativo eccola qua questa è la moneta verde numero 2 della settimana 8 quindi qui praticamente la terza moneta verde si trova a brughiere brumose qui sotto il ponte sotto questa strada praticamente la vedete già da lontano quindi non potete assolutamente sbagliarvi eccola qua come vi ho detto questa è la terza moneta verde vediamo l'ultima la quarta e ultima moneta verde si trova nell'edificio nella piccola casetta nei pressi di gatto grill praticamente in questa zona qua vedete ora non so se ho messo bene il punto si più o meno la casetta che sta dietro il magazzino di gatto grill questa casetta sicuramente qualche volta ci sarete stati entrate dentro e troverete la quarta e ultima moneta verde per la settimana 8 quindi entrate e voilà la moneta è qui